ci siamo hello benvenuti l'home play di hotline miami 2 wrong number uno dei giochi che ho aspettato di più quest'anno e che mi è uscito così un po' a tralimento accavalandosi con altre cose e che sostanzialmente ho bucciato nulla quindi si scoprirà un po' assieme ciao ragazzi benvenuti tutti si sente bene? basta con sto grande che poi penso veramente di essere grande in realtà vediamo un attimo ciao si sente? si vede bene? ma me sta bafferando a manetta sto caspita di twitch mannaggia a lui ciao a tutti ragazzi ciao pazietan ciao sara ciao funky ciao cuore puro che bel nome caspita ragazzi ma che ben nome vi scegliete ciao breganti ciao abbraccio ok dai ragazzi tagliamo un attimo questo ultimo non si offenda a chi non ha nominato e cominciamo con hotline miami 2 wrong number il primo è una bomba per me è uno dei giochi preferiti negli ultimi anni ok new game sono ancora deciso di giocare col padrone o la tastiera alla fine boh vediamo ma scusate c'era mica c'ha le musiche spaccano tutto che belli poi gli animaletti 34 persone così poco amore per hotline miami è una cosa che non sopporto vediamo un attimo torniamo indietro che voglio iniziare c'era mica un easter egg new game boh mi inizia così va bene si gioca meglio dice claudio da serie mouse ciao smuaro 31 ottobre halloween del 91 man this party sticks ma io ho iniziato c'era mica un easter egg tipo che era meathead animal così un film finto tra rigolette mamma mia che parti di scoppiati qua c'è anche l'orso sto figlio pochi ma buoni vero ciao fede mamma mia vorrei tutte queste maschere qua ciao steppa ciao pasquale le banish guarda qua che roba la gente che pivacca questo è una macchina polizia ciao cage non mi va dentro mamma mia mamma mia corre mamma mia cominciamo già bene ciao caruat già 71 mi piace di più intanto invito su twitter a cercare teocrazia che sono io con la cappa ed eventualmente a ritwittare il mio ultimo twitter ragazzi se li passano altri miei tasti perché ok fatti che pazienza mamma quindi questo è cosa questo è lock mamma mia questo fa la cosa fa il roll che figata dai fio le mie musica sono male anche lo steam ragazzi io ce la faccio ragazzo cioè se chi mi ha su steam teocrazia sta andando a vedere i miei punteggio tra i maio e i miei uno insomma spacco non è che posso fare sti piccoli di merda in diretta su no mi prende mai col conto ma questo è cosa ok questo è lock questo è stato fa stanno sto dodge qua dai nano madre di dio lol perché dodge mamma mia la catena oh questo prende l'arma no è questo bom mamma mia cosa non sono le mosse ok questo cambia l'arma coltello coltello il coltello è sempre una figata sono questi budellamenti gaspita go mi sta cambiando mi sta cambiando mi sta cambiando i tasti ragazzi perché non mi trovo ok intanto però un po' di mano ci sto riprendendo via e cazzo va bene tutto però vediamo un po' prendiamoci ahhh è quasi girato maledetto te sempre così la prima è buona anzi a me lo shot via confondo coi tasti ragazzi un altro new warm up ancora ancora ok oh 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 dai quasi quasi prima te eh non ci sono più cazzi guarda questo guarda questo pensate che ancora devo pensare qual è il tasto per sparare ci dobbiamo ancora entrare nella memoria muscolare comunque inizia già cazzuto inizia ma di camere ah maledetto wow l'ho doggiato questo è una figata ma è rotto mi spacco tutto voglio loro shot questo è un gioco di molta concentrazione ragazzi copri un po' di chat è un gioco ciao gigantone ciao gli altri è un gioco in cui conta molto la performance proprio deve essere proprio assorto ma una figata c'è tanto di quei gameplay tante di quelle piccole cose il film di tron no ti ricordo la soundtrack ciao ciao e più che altro sapete c'era quel filmino lì che faceva il tutorial vediamo un po' come mi sono fatti i controlli invece con la tastiera config was the attack interact proviamo via 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 grazie rimango colpato per che momento lol e sbaglio ahhh stasera a me con cosa locco non è capito 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 ad esempio cambio arco ma caspita ok con la tastiera così in contatto nostro riguarda un attimo la config scusate ragazzi eh lock lshift lock on lame lo so adesso no lock si è roto bravo seguite la musica intanto come si è acquietata è nata il fade ok adesso resto cambio l'arma schotti schotti Ok Mamma mia Mamma mia Scusate Però questo parte già subito violentissimo Questo gaspitericoso Manca un po' di warm up Vieni a prendermi Matalo Ma no Oh level clear Ce l'abbiamo fatta Me lo voglio rigiocare quasi Io vi faccio un po' di scorata Non lo so se questa mi fa impazzire Come quella che c'era nell'1 Vi ricordate Miami 2 si chiamava quella canzone lì Meravigliosa Grado B Faccio cagare Tony Tony ce l'ha amica anche nel primo Ciao mamma Happy Halloween sir Tre pizze Fantasmi certamente Halloween Guardate quello c'è il coso Il pappagallo c'è Ciao fra E' diverso dal Come feeling comunque Sempre tra i Miami Ma Caspita C'è un sacco di narrazione Anche per il po' che avevo visto Ciao slash No Sicuramente no Non 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 lucco good Andiamo a ammazzare quanto è via Homicide Wow Queste le musiche ragazzi Ma wow Hai già così Hai già così complessa Ragazzi Questa è una cagata però Che entro e non esco più Wow Wow Non ci posso credere No Mi ero incantato con la telecamera Bravo Bravo Tolle Bene così Vai Un po' di camperi Ok Ah Sei protetto Guarda c'è anche la fisica Delle arance Mamma mia la musica Ragazzi A te guarda No Oh 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 Tiragli la cosa Con sdegno Non voglio mirare lui Voglio mirare lui Attenti Ti becco con la porta No Avete visto che Il spara Mentre stas Ma che figata non è Bravo Sbaglio tutta Scusate Scusate il legno ragazzi Giocate la bella piazza Di avere pazienza Ma arrivo da tutt'altro giorno Oh oh Dai silenzioso Così Come non è Ciao Andiamo di prima Mi piaceva Allora Facciamo così Ma che belle Non so Mamma mia Bravo Lol Sapete cos'è Siamo un po' più lento Nelle esecuzioni A terra Non è Tu non ti è girato Vabbè Vabbè Continuo Non c'è anche Nell'uno Ah Che godura Ragazzi Lolle Sono sopravvissuto Non ci credo Ma i colpi Dove si vedono Mica ci scrive Guarda che mi Ho mai spavuto il cursore Ma dai Ma che cagato Non posso fare così Cagato Ah Ah ecco Lassù 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 BOM Sotto Cazzo Maginiamocelo un attimo Sennò veramente qua ragazzi Tutto da 4 LoL Non c'è Non posso dire che questo è un senso. E' un maestro. Non ci tagge. Guardate che c***o. Guardate che c***o. è solamente sbaglio il tasto l'imbarazzo totale metto un attimo pausa ragazzi i cani si ricorda, si i cani si buonasera a tutti ciao penelopretta minchia ragazzi sto soffrendo praticamente ma veramente una cosa mettiamoci il cappello portafortuna via sto soffrendo la sindrome della prestazione caspita un gioco mi piace tantissimo una serie mi piace tantissimo non posso portare a me ora che robo bravo 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 basta basta ma il lock dovevi ne ha presso il lock non proprende ragazzi come cosa stasera no config Lock on! Ok Vieni! Nooo, che chiacchia di cazzo! Meglio qua! Meglio sei! Meglio sei! Hello! Ma c'è anche Elman! Sixel, Elman, Slayer e voglia! Ciao raga! Sentite il post! Qua non sei lasciato da solo con i tuoi peccati in mezzo a sto sangue! Comunque lo voglio rifare, non mi fotto un cazzo! Oh! Non si possono ammazzare? Quindi... Ah, polizia! Drop your weapon and get down! To the ground! Ma Elman è già venuta a whinare qua! Elman, per piacere, non vi dammi il gusto, va! Go to the ground! Pardon! Muro invisibile, percibata... Oh! A questo sound mi devo ancora abituare ragazzi! A questo sound mi devo ancora abituare ragazzi! Ciro! Ciro! Ma Ciro sei moderatore, caspita! Minchia B- che tristezza! Questo è proprio il mio del 191, sto sound ragazzi! Un serial killer! Mamma mia! E' il Wineria! Ciao, Elman! Se volete che imberacodici, citofonate a Omoyoli! Che dia il buon esempio! Questo è delle basette assolutamente discutibili, depercabili! Go, 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 go! Ciro! 89! Wow! Bellissimo! Beccalo degli strumenti! Wow! Ciao Fra! Mi esponza il cervello! Basta! Ci voglio neanche gli occhieri a soli ragazzi! E' troppo! Jake! Jake! Jake Lafuria! No vabbè, ma di cosa stanno parlando ragazzi? I russi! Sono tornati i russi come nell'uno dai! Qua già subito i vetri! Vabbè! Sbagliato! Oh! Che l'ho! Spero che lo still sia ok ragazzi! Perché io lo ve lo fermo! Bravo! Scusate eh! Qua, refresh un attimo la mia pagina di Twitch perché ce l'ho fermo il mio stream! Vai a capire perché! Eppure OBS funziona! Rimetti gli occhieri a solo che sono tutti meritati! Ah, mi dai anche la pubblicità Twitch! Mannaggia te, non perdi mai il vizio! Madonna la capata! Uh uh uh! Ma di cosa stanno parlando? Tu! Mamma mia! Quello non mi sta attraverso il vetro! La figata! Ancora! Hello! Ti vieni a prendere? Dai, vieni a prendere! Dai, ti trovo! Dai che me li palleggio! Mamma mia che superculo! L'ho ammazzato solo con il lancio Ma questo c'ha i deadly troll C'ha, è vero? Oh cazzo Muori male Empty Empty Uno Che figata sul personaggio che c'è il lancione Vabbè andiamo Cos'è rimasto? Ecco io quello come la foto Basta Adesso vedete che c'è l'ultimo pirla che mi ammazzo male Bastardo Ma che figata è il deadly troll Vabbè È dead No Però Sbaglio O è meno Boh Se va meno pulito ragazzi Perché caspita Ma non c'entra la porta Non è mica la prima volta che sembra che si imballano i lanci No Adesso ok Basta coltellate così i volanti Allora vediamo un attimo Ragioniamocela Troppi nemici Facciamo così via Coltellino E lo lancio questo Ok Tu muori male Qualcuno dovrà prendermi Facciamo l'ultimo Facciamo l'ultimo Oh oh Che culo Oh Comunque è un po' diverso come figlio Perché non so cosa che Se lo preferisco a me Sto bastando Alla grade Della merda Ma guarda che sfiga Contro la pianta Oh oh E tu E tu Basta Frasi da copertina E tu stai Altri Metal Gear Qua bisogna consigliare Centomila cose Dai tu che mi hai visto Hopla Tu guarda che sfiga Stai forte Maledetto Ok No voglio lui Guarda che sfiga No voglio lui Prima Allora, prendiamo questa! Ma p***a, ragazzi! LOL! Sì, ragazzi, comunque le musica sui tuoi stupito riposate sono al momento! mi chiedevo come caspita avrebbero potuto proprio una cosa di tanto valido rispetto all'uomo tanto scopo di me vai con la fumarola ma guardate che sfiga bravo valla qua dai nano nano no 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 dimentimi a prendere sopra pulito no allora tu stai la oh che culo ah ma sopra c'è ancora tantissimo poi vengono a prendere ah qua si è tutte mazze m***a finalmente una combo io che me la giocavo di bello ti ammazzo tutte cose qua c'è un mitraglino e allora attenti, mettiamo con questa smitragliana godiamoci questo momento di relax andiamo con la musica ciao nuovi arrivati ragazzi che meraviglia no luigiottiere, tieni conto che lo sto facendo luigiottiere dice che siamo più difficili del primo tieni conto che lo sto facendo sembrare difficile io perché mi sento veramente pippa e questa cosa mi fa rosicare male visto che il suplomice l'ha spaccato me l'ho divertito, ho fatto anche dei bei punteggi ma vaffanculo stasera non è sera per il gioco che aspettavo di più di qua andiamo a vedere ok ma e comunque sia questa decompressione della violenza no sempre meravigliosa questo appunto è venire a te con la puzza di sangue racgrumato potente con i tuoi peccati se mi devi entrare basta abbiamo ancora look come si cambiano le maschere c'è anche la grande ritorno la grande ritorno c'è anche questa non lo se lo tolto c'è anche la grande ritorno occlusione lo spazio c'è anche la mia c'è anche la vittoria megribil grigetta oh pyrveen öh Attio, non mi è sciogliata. Nega, arrivi, vuoi un tatuaggio subito. Rashed an asshole. Guarda come stiamo facendo tatuare. Questo è andato a insultare il tatuatore. Mi dà il Tenimol è il film con cui si apre il gioco no. Questo lo vuole un giocattino. Come aspettare di fare una ripassione, i miei comandi e le portacce. Kill kids, strangle them, beats people, let's me, rip their hands. E tra l'altro è in quel film lì c'è la scena dello stupro, criticata eccetera eccetera, ma vabbè. Il gioco volendo vi permette di schippare le scene più estreme diciamo. Oh my god. Oh my god. Wow, ma ragazzi guarda che c'è una narrazione ha fatto le passe allucinanti. c'è anche la dell'asto base che sentono una ragazzina è una sorpresa continua sono ancora maialino salve aspettate che magari se la gente le polis è giù clic, adesso non posso scappare ho visto che si è avvito in Alaska Hello? Mazza, questa staccata è molto scattoso. Final Cut! Quanto sangue! Ah, sta in stazione di pulizia. Va bene, primo... Non voglio fare spoiler. Questa è la musica del subconscio. Sì, spacca. Per me, sì. Per quello che sto provando insieme a voi, spacca tantissimo. Solo che mi sembrano, lo so, subito ripido, nel senso che ti metti subito con delle prove che nel primo, nel sesto, settimo livello, magari. Fatto con gli specchi anche, per i vetri. Stai attenti come agisci. Oh my... щiti e jueghi un'altra gente. Oh my god! Chi no? Chi no? I'm gonna let you out, I'm gonna press up. Guarda, guarda, guarda! Oh, la banca spazzatrice mi deve rispondere. Ragazzi, ho fatto un numero che non so neanche lo peccato. Non posso spaccare il numero che ho fatto. Che è rimasto? No, ma... Non conosco un'ora da... Non l'avevo visto, maledetto. Eh, cazzo. Figuratevi se la magia adesso mi esce ancora. Figuriamoci. Oh, oh, non ci arrivo. Basta, bisogna andare in trance con la musica. Bella! Anche tu però, campione, ma hai riraccolto la cosa, ma come stai? Comunque mi stai avituando alla taschina. Oh, guardate che bello tolto un altro giro, ah, questo è un armato, ma non sono pure esagerato. Mannaggia a voi. Ma dai, non è giusto. Sì, comunque non puoi iniziare già così, ma hai giocato. Bravo. Voi provare, non va a sfuntare, non va a sfuntare. Non va a sfuntare, non va a sfuntare. Ah, starlo, terzo. Non puoi che a fumo. Dai, dai, dai. Quasi. Ah 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 Comunque lui, quanto bello cos'è la maschera da caotola La maschera da, come si dice, da maiale Fa subire più colpi Cioè permette di resistere a due o tre ferite E vabbè Luca, è la natura del gioco Anche se insomma si poteva fare meglio Sono belli questi occhiali, me li ha regalati Ma me li regalano sempre tutti Lolle, Bob è male e mi dice che sembra un detective americano Sembra uno che sto rossicando oltre le Miami E non va bene Mamma mia ragazzi Oh 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 No, no, arrivo Cazzo Arriva Nolle Capata Questo è giro buono, me lo sento Come portarsi un sfigato sole Ah cazzo, allora ce ne sono due Sotto come va E lì c'è uno che mi scama Annaggia Ragioniamo Comunque è un po' troppo di ragionamento ragazzi Cioè anche il primo in realtà si ragionava Ma cazzo Ma cazzo L'azione è meno fluida Cioè Vediamo Non ci arrivo C'è troppa pianificazione forse Cazzo è a process in alto Cazzo è a scramare proprio Cazzo è a scramare proprio Dai è troppo prestigiale Boh Eh ho indeciso Scusate A me che Compensa un po' il fatto che con questa maschera Non muoio subito Ai primi colpi Però non se ne ha accorto Meno male Bravo Bravo Scusate 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 C'è rientro rimesso E ragazzi vuole E tu? Basta Ti sei solo sospettito così Ma che ti dico E che paro E Parola Lte E E Banno Banno E che sfiga ma ne è una pene, è una pene il giudio tutti, il giudio tutti il giudio, si è fallato farvi schiapparades ah guarda, che c***o è uno queste che si arrivano hai visto? non fa una palla a giocare così da camera vabbè magari se non vuoi più libera non c***o ok non si si può di fuggire insomma troppo sentiva troppo vediamo ah che c***o che c***o non c***o non c***o per te non c***o ti odio ti odio ti odio tantissimo ammazzatevi veramente di odio ammazzatevi le ammazzate vengono non basta poi ci siamo più rapidi allo ciao montare però nel frattempo con tutti quelli tentativi quanto un mini strategico provato da porre nel senso è un gran gioco di spessore secondo me è un gran gioco di spessore secondo me vabbè pur giocando solo da solo non è anche costretto a sentirsi dove i dischi queste c***o che ho tentato per l'altro magari ci sono questi ok I hate you dove vai? non c'è pietato oh non c***o non c***o non c***o è un'altra non c***o poi non c***o non c***o ii non c***o No, ma da dove cazzo è arrivato ragazzi, avete visto? Assolutamente sì, Dark Seat, Teo Clasquero Torniamo in game Allora, manifesto della violenza, ora vai! Mamma mia, ma ci devo fare? D'altro secondo me è un gioco, una serie che si presta a letture profonde, eccetera Ma se non c'è qualcosa di violentone e basta, fine a me stesso Non mi hai visto, dai, il cazzo sei o meno ribadito da te Tu guarda la sfiga Oh fredda Allo Allo Allora Vabbè un cazzo Non perco, non consegno Hello Hello Ok Guarda i dettagli del cappello che gli ho dato Ti affronto la faccia a morte Ti affronto la faccia a morte Ma guarda che sfiga, il pirlotto da sopra è venuto, ma come si fa? Dai Sanguinella Spacco tutto No Bella che ho trovato la colpa, grazie al colpo di porta Stanno cercando me quelli, aiutami Stanno cercando me quelli, aiutami Io quasi così No Ma guarda che... no ma ragazzi ma che cazzo mi spiega uno? Oh E' un giro che cazzo mi spiega uno? No E' un giro che cazzo mi spiega uno? Allora, guardate che si f***a ma quello Non mi hai visto? Tu è il guardia E basta eh, con penetrazione te la perdoniamo perché sei un bel gioco Eh dice uno Non so Via Ah c'è anche No dai Le ronde dell'amore Mi faccio un cazzo Morite Morite male e ok Può rimanere anche tu Dove pensi di età? Guarda quello Adesso, qualcuno è un allarme? No Spara quanti? Ragazzi non ce la potrò mai fare Non ce la potrò mai? Non ce la potrò mai? Non ce la potrò mai? Aspetta che mi prendo qualcosa Empty Sei colpi, andiamo Non ce la potrò mai? Non ce la potrò mai? Ah, come se la potrò mai? Non ce la potrò mai? Non ce la potrò mai? I hate you Sono qua? Così a sfregio proprio, meritavi la tua strada. Vediamo se è su casa ancora oggi. Cos'è que... oh madonna cos'è quello? Non potrò... nooo... nooo... va bene. Quattro colpi per fare quello non c'erano più. Infari ho anche scagnoso. Non c'ho una paura. Mi ho fatto la Sub-Zero! Sì, vabbè, questi sono i tre moschettieri delle rapine a mano armate. Ma dai, ma guarda come sta! Vabbè. Un po' a vetri! 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 Basta, ma dove cazzo vanno sparato a voi, non ci sono vetri? … … … … … Sì, bravo! Oh, grazie! Mi è rinno di me! E' una! E' una! E' una! E' una! Figurati! Tutti venite, dai! Venite! E' una! Ma' dai, dobbia manium! Ma' così è mortano! M3! Fresce S! Ah, c'è solo tu? E' una! Vabbè, tanti faccio con la porta! Sempre che non si svegli fuori di là, eh! Muori male! E' una! Tablet! Basta! Scegliamo i testimoni! Non si può! Perfetta! Non fa entrare! Ha uscito da qua! Figata! Niente! Niente! Apparca il vetro quando si fa il ca... Si! Quando si va! Ah, get keys! Leggo adesso! Dal tipo che ha ammazzato! Superbossi! Get her! Ehm... Adesso? Non fa curare la buona! 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 Ciao, Mr Priest! Grazie per il buono strema! Ehm... 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 nel cervello sì comunque caspita si colpi di scena se uscite anche il fatto scusate è un po meta referenzale il fatto che dopo che la ragazza m'ha ucciso metto schiaccia r tocca cazzo rifare livello mi sembra una cosa scrittata infatti non mi sasco di rifare livello però ha dato quell'impressione di ci ha giocato sopra bello comunque quando poi me lo rigioco finalmente da capo e cota prendo un nuovo play con lo score attac fa figo di cazzo guarda ma ce l'ho dici avrò ma che cagata dai wow la kojima tai di cibo la kojima tai di cibo lolle canzopalo per il tweet Luca, Giammatteo Marco Braccio bellissimo, no Giammatteo è scritto oggi è su picco, è su piccoli cagate no further questions tanto qua si parla di droga e mignote in chat bravi ragazzi, sono orgoglioso di voi andiamo, andiamo go 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 go, andiamo sul gameplay a rosicare male via, queste sono cose che magari ci riserviamo un secondo da soli oh, giocabile vediamo un po' che succede wow, cosa posso fare ma che belle queste soluzioni, ragazzi che figata ok, posso andare solo di qua, verso l'obiettivo vediamo un po' chiama, chiaramente tanto scusate, arrivo su grande Ciro grandissimo Ciro guardando un po' che Oggi sei come le mascherote le Miami Comunque basta, il pad lo buttiamo, pensate che ho fatto super scoratta anche nel primo col pad alla fine, perchè non mi trovo troppo bene ne col base d'assietà, ne col pad Cioè sembra una cosina che non mi ergabava, probabilmente se mi controllo alla fine Wow, guardate che camminata qua qua, cos'è il congresso degli Stati Uniti? Ma è il Miami Vice 2, se... Tu che cazzo vuoi? Ti spacco tutto, tu sei pezzo! Ma che figo è il baffone che sto controvando adesso? Cosa fa questo? Oh my god, guardate! Lo gonfio, cosa fa? Ah ok, massaggio per diego, ok poi... Buona sigaretta! Buona sigaretta! Help! Somebody call an ambulance! Tra l'altro questo è sempre il protagonista del super sesso, cercate su Youtube super sesso! Ok, questo vi faccio con la lancia! E vabbè! Come on! Guardate com'è! Ma che fa'è? Gli Stati Uniti non li ammazza praticamente! Gli Stati Uniti non li ammazza praticamente! Gli Stati Uniti non li ammazza, gli Stati Uniti è bassa! Ecco perchè ha sapato quello prima cosa! Come on! E te? Tu però mi sbari! Ma dai, non è giusto! E' morto così, a stermi in live! Mamma mia che c... Beh! Andiamo di qua, vaga! Calmente Dio! Hellooo! Ma sei più potendo, scusa eh! Ok, sta ammazzando adesso! Ok, come andiamo! Allora! Andiamo di qua, vaga! Ma io a sinistra! Eh! Non è un discorso pulito! Che lentezza fa un'esecuzione interna! Nolle! Oh my god, il cervello! Meno male che non voleva ucciderli! Cioè non voleva ucciderli! Ma dà fanculo quello sotto! Cioppa! 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 Dai, prima che si riprende quello, mannaggia! Aiuto! No! No! Stai cercando adesso, caro? Vediamo intorno cosa c'è! Cioppa! Quello sotto! Adesso può fare quello armato, eh! Dio vabbè! Dio vabbè, cioppa! Dio vabbè, cioè non mi ha capito! Staccati! Staccati, staccati! Devi staccare! No! 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 Ma vabbè, domani è lì! Staccati! Mamma mia come mi sono salvato! Vabbè a questi li facciamoli fuori. Ok, qui il tuo fucile, se permetti. Troppi vetri dai, che palle! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Basta? Eh, il vetro è infame! Guarda che tu cazzo mi hai preso! Questa è un'altra cazzo! Questa è un'altra cazzo! Questa è un'altra cazzo! Questa è un'altra cazzo! E vabbè mi sgamato! Questa è un'altra cazzo! 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 ZZRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR! Quality! Dopo lento, basta definisce, non lo faccio più, ho finestre di azione così, ridotte, ma guarda te, tre colpi non l'ho beccato. Perché fai così cagare con le eseguzioni? E' mamma. La faccola a tutti Comunque boss ma che cazzo cazzo ci sia poco spazio per la fantasia Poi magari devo solo tararmi eh non lo so vediamo Ma guarda te sto pezzente Guarda ragazzi qua mi devo solo tarare Non è giusto Guarda la sfiga Questa è la mia Quasi Con quanto sono più gratificato Lo sciotti alla fine è bene Però La gratificazione che ti dà Una bella mazzata Allora Qua sono spacciato No guarda te ma Che indecenza C'è qualcuno che è ancora viva Ragazzi qua ho avuto un super culo Che stavo Vorrei solo immaginare quanto stavo già Pestemmiando internamente Ora quello Allora a te Aspetta che non mi fido Eh infatti faccio bene a non fidare No facciamo il gioco così Questo non si può mirare Oh my god Sì vabbè ma quello ce l'ho dietro Non è giusto Mamma mia che massacro E avanti Quale mai spiega solo C su C D D Bele se sono da rock Poi comunque Wow Un gigantone come me Un fan del post rock Dovevo controllare twitter In termini dice Pad the punish Sto guardando gioia Vediamo un po' Vediamo Figata Bellissimo Grande Come ci sono rimasti di merda Per il colpo di fatality Della cosa che ho fatto Alla cicciabomba Permesso No guarda Andiamo assieme Oh sento la storia Doppio personaggio Con la motosega Eccetera Allora cosa si deve fare Ma possiamo avvanzare qualcuno No Perché mi si può sentire Per questo ragazzo Oh Ma cosa devo fare Si è incastrato finalmente Vaffanculo Alla sottoscita Intanto qua c'è gente che si invita a uscire No Ti farei tutte queste maschere Andiamo avanti Andiamo avanti Che Macchinina Moving up Corri Roll dodge Killing punches No weapons Roll dodge No No Mi pare di dolarse No 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 Stai a vedere la gola Con trottare Se è una meravigliata non è giusto questo però vedete come è il respiro del livello mi ricordo un po' più breve che almeno puoi creare un po' più marginale mamma mia è qua un guaio guarda 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 covetesche guarda allora guarda guarda my per soltare il nostro mancutello ah vai vai in supercopo non solo sconda voi pensai dai e tagliami persetto non è parito non è rimasto da coltello a coltello ecco, vedi, i cani e perso una caccia ah, la d'auto è gerato andrò viene a prendere, nano andrò 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 e allora andrò andrò e sono due l'altro è armato in shotgun tra l'altro mi dimentico del doge pollo polloissimo madre ho utilizzato in un certo tempo quello mi ha spattato sono morto stavolta invece non lo può spattare hai visto? non si muove mamma mia i cani e vabbè dai io ti capo una cittura popolana oi 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 basta oi 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 o o o o o o guardate queste piccole shape alla fine guardate guardate Ghetto come è Ghetto? Voducar Ghetto Voducar Voducar Rochetti mollo adesso ieri notte niente dopo 10 minuti ho spento 10 minuti ho visto il prologo il film cd animal no che c***a devo assolutamente il maschio abbasso il gioco abbasso leggermente come nel gioco ma è già molto basso comunque ragazzi eh facciamo così facciamo ora qua guardate così ok ditemi se va meglio ciao Elgut bentornato ok go gli ultimi 20 minuti assolutamente rocchiali da sole c'ha anche i riflessi guardate che grafica un bijou 21 novembre wow squalo ah sono un russo sono ma wow cappelli 6 o 7 però adesso qua stavo 3 anzi di più 7 o 8 9 o 10 qualcosa in più andiamo avanti la storia anche dal punto di vista dei russi caspiterine posso scegliere? sceglie questa chiaramente eccessiva ma qual è il padrone mi sa? più alla DeLorean raga raga mettetevi d'accordo che wow ci stanno sceglie in serta lo skateboard via via ma di che stiamo parlando? qualcuno si è lamentato che non sentiva la mia voce non posso rialzare la musica raga e... cioè che è una abbassata che è una abbassata bravo oh che scarso ma ah cazzo sono le vetrate non le nuotate anche di là c'è ancora due colpi devo farne buon uso ecco ecco cinque colpi buon ehhh fucilatore di merda ah non è giusto allora vediamo cosa abbiamo qua vabbè non dovrebbe esserci buttare sotto bellissimo subito smentito ci siamo quasi via ma va cagà va va cagà ahhhh 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 ahhh ahhhh 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 tre colpi ne farò buon uso giuro bravo cosa manca? di qua non si può passare vero? allora facciamo così guarda guarda me ci fai così buona due colpi anche questo anche questo è un skill diverso corru ma guarda te è stato andato in palla eh bisogna mantenere il sangue freddo ragazzi neo ai 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 4 ahhhh aieeee Allora! LOL! E' so scappato! Ero disperato! PORCO DIZZ! PORCO DIZZ! Ok! Dammi la mira su questo! Succa! Ok! Qualcuno sotto? No! Allora! Vai così! Ok! Quattro! No! Non ci credo! Ma dai! Ho fatto cagare! Ragazzi ho fatto tantissimo cagare qua! Eh vabbè! Non voglio lui! Voglio lui! Ma non ci credo! Eh vabbè! C'ho ragione! Ma ha sgamato da lì! Ho avuto l'angolo di tiro! Ho avuto lì! Ho avuto lì! Ho avuto lì! Buona! No! Non ci arrivo! Boh! Mi faccio il giro via! Woo! Bravo! Bella! Bella! Buona così! Non c'è qualcuno là sopra? No! Non c'è qualcuno lì però! Vabbè va! E ora! E ora! No! Cazzarò li vetri! Mica li considero! Mi sei imballato? Tu invece mi vuoi! Buona! Wow! Dai vetri eh! Dai! Fatti ti linea di tiro! Maledetto! Ho preso! Ho preso! Ho preso! Due colpi! Ho preso! Manca un colpo ragazzi! Ho delibata e via! Ho preso! Ti beccherò mai? Quando mai? Che culo! Buona la siga? Buona! Chi è che manca? Ah! Manca il pirletta lì! Attenzione però al cugino coltellato! Gliel'avevamo fatta! Wow! Lamborghini! Sono empty intanto! Vabbè! E vabbè! Da sotto invece? Hello? Troppo! 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 Bello il muro eh! Guarda il muro! Merdone! Altri! Altri! Hello? Hello? Prendiamo! Troppo la diretta via! 21 eh! Fatto! Ah! Ragazzi devo stare attento allora che... Insomma! Sì! Stacco alle 23! Niente eccezione! Gigantone! Mi spiace! Non faccio le regole! Citofonare... Vabbè! I nomi dei capi li sapete! Citofonare loro! Se avete una soluzione diversa! Sono un deficiente! Ebbene sì! Basta! Da mitraglietta a mitraglietta! Facciamo un attimo giro che non mi fido via di quello che c'è! E infatti! Basta! Mitraglio anche te perché mi hai rotto! Pensare cazzo che nel primo baddavo anche la flessibilità! Il saper si arrangiare! Mannaggia cazzo invece qua! Vabbè! Piano piano! Bravo! Vabbè! 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 Non crederci! Alzatevi! Insieme! Bravissimo! Hello! Hello! Hello you! Guarda! Me la rischio! C'ho voglia di impormi col mio stile! Via! Quasi cazzarola! Alzatevi ragazzuoli! Vabbè! C'ho voglia di farmi una cosia! Me lè! No! Clamoloso Che bella la mazza, ragazzi Se avessi stato curioso vedere se il fucile preso da loro effettivamente è scarico Vediamo, facciamogli prendere, vediamo Eh sì, non spara Ah, meno male Sapete Non è così ovvio, magari sì Sono degli AA in cui cagate del genere succedono Eh, quello mi fa Vieni No, non è giusto Te la sei presa nel sederino, eh Che era scarico il fucilezzo Come on Non sapevo Ah Guarda, no, facciamo così Caspita, ma ho sventrato Vedi, sai come c'è rimasto il mio pupazzo Vai, vai, super combo Vai, pollo Perciò Ah Spacchio Ah Spacchio Spacchio nano andiamo su adesso che gli dice il cosino il vetro questo? hello? hello 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 eh minchia, il cazzo altiti vabbè mamma mia ok dai che c'hai voglia di spaccami tutto oh ancora ancora mi avete preso gusto maledetti voi anzi ho cambiato idea voglio da grande voglio dare coltellate alla gente bellissimo come ci rimane di merda infatti che non spara intanto questo insieme ad alien isolation come ricostruzione d'epoca e fare meglio del vintaggio che ci piace tutta l'epoca tutta l'epoca inizio 90 vhs suca ok diciamo coltellate no? bene una vita a coltellate ah che cazzo mamma mia eh eh peccato figa finalmente mi sono scaldato non è giusto attraverso la lamborghini la lamborghini non ti proiettili dai lo sanno si sa eh fermo con lo scemo tu e anche tu di qua ci sono eh eh figurati attento lo tiro il coltello la nooo si è fermato a mezzo metro stai diventando ricco già ma stai parlando di vendite hello ah ma attraverso cosa? attraverso il legno? ah è tipo un è una scala con il corri in mano continuiamolo ora ragazzi ancora due minutini intanto hello boh c'era il cugino ecco perché stava così fermo tranquillo hello hello infatti mi trovo questo e tu da che ci lo fai? ah sono infame mi sono sentito miracolato quando non mi ha preso dio caro ops basta ragazzi tanto è improduttiva questa cosa ho sempre la pauretta di spragare grazie a tutti per questo long play di questo gioco tesissimo no 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 adesso eh torno su un altro gioco che sto recensendo mi chiede Pasquale cosa faccio adesso quando stacco se continuo da solo o no no questo qua me lo me lo voglio godere quindi me lo ricomincerò quando ce l'ho del tempo da zero per bene poi magari lo strema ancora sono quasi il mio canale a me e così sono concentrato su un'altra recensione quindi così ciao ragazzi grazie di tutto buonanotte grazie a compagnia spero che sia stato bene ho seguito poco la chat ma è il tipo di gioco che mi tiene così e stavo troppo rosicando male bacioni ciao ciao